19, cioè invece la prossima volta che faremo, invece del 23, 83 metteremo il 19, 90, in concomitanza dei mondiali d'Italia, 90. Benissimo! Il 19! Il 19! Il 19! Spetta il diritto di stappare! Un'apploda, un'apploda di scappoli! Un'apploda, un'apploda di scappoli! Un'apploda, un'apploda di scappoli! Pizze, da mangiato. Minchia, delle camere si fanno. Se permettete, devo dire una cosa! Per piacere! Ma di niente. C'è stato un grosso, grosso neo. L'arbitro, da criticare. L'arbitro il prossimo anno deve essere pederasta. Perché non deve essere né scapolo. Prendiamo le armi. Perché non ci sono le regole. La distritalia, un amaggio. E' solo in errore. Diciamo, moche. Perché l'anno prossimo decideremo. E' solo in errore. C'è tanto. Abre, 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 abre! Abre, abre! Abre, abre, abre! Abre, abre, abre! Abre, 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 abre! Abre, 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 abre. Abre, abre, abre! Abre, abre! Grazie a tutti. Grazie a tutti.